ciao amici sapete che c'è un cereale amico del dimagrimento ma come simona i cereali fanno ingrassare solo quelli raffinati i cereali integrali invece sono amici della linea in particolare uno l'avena ma non è super calorica dipende da quanta ne mangi al di là delle calorie il potere dimagrante di un cibo dipende da tanti altri fattori se volete sapere quali sono e se vi piace l'idea di sapere come dimagrire mangiando mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ecco le proprietà dimagranti dell'avena 1 colesterolo basso l'avena aiuta a ridurre il colesterolo cattivo ldl grazie al contenuto di fibre e acidi grassi come l'acido linoleico 2 abbassa la glicemia l'avena è straordinaria perché riesce a regolare la glicemia cioè gli zuccheri nel sangue limita i picchi glicemici che ci fanno venire voglia di mangiare schifezze dolci una delle cause principali per cui si sgarra e non si riesce a dimagrire 3 potere saziante l'avena è ricca di carboidrati complessi a lento rilascio ecco lo dicevo io che mi fa diventare come un pallone ma il contrario i carboidrati a lento rilascio sono quelli che saziano nel lungo periodo impediscono di sgarrare fuori pasto a causa dei vuoti provocati dai cibi raffinati inoltre attivano il metabolismo e il potere brucia grassi del corpo 4 antistitichezza molte volte l'addome gonfio e la pancetta ostinata sono dovuti a un ristagno di tossine nel colon e di conseguenza anche in tutto il corpo liberare il colon è il primo passo per depurare tutto l'organismo e dimagrire soprattutto la pancetta 5 crusca d'avena l'avena si può mangiare anche in forma di crusca la parte esterna del seme la crusca conserva la maggior parte dei benefici dell'avena ma pochissime calorie poco glutine ed è molto digeribile ho descritto come usarla in questo video e l'avena invece come si usa ah io per esempio adoro il porridge ne ho parlato in questo video è una soluzione fantastica per iniziare la giornata con una colazione nutriente e brucia grassi che aiuta a dimagrire per tutto il giorno se volete conoscere tanti altri cibi dimagranti e brucia grassi basta iscriversi al canale è facile con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto mangia sano e dimagrisci sano vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri e the book i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao